Buona domenica, primo dicembre, buona domenica di avvento. Leggendo il brano del Vangelo di oggi troviamo una sollecitazione a essere pronti, al veniente, ad accogliere. Il dono è la grazia della presenza tra di noi, della parola che si è fatta carne, del figlio di Dio. E voglio prima di tutto leggere un breve commento che trovate nel blog di Enzo Bianchi, commentando il Vangelo di oggi. Piccoli passaggi che ci portano ad accogliere la parola che incontriamo oggi con spirito nuovo, con spirito di conversione, di attenzione e di disponibilità a riprendere costantemente un cammino anche nei momenti più difficili. Scrive Enzo Bianchi, noi cristiani aspettiamo davvero l'evento della venuta nella gloria del Signore Gesù oppure non ci crediamo, lo consideriamo un mito. È una domanda legittima che scuote le nostre coscienze, che bussa alla porta del nostro cuore e della nostra mente. Ma è su questa venuta che si decide la nostra fede cristiana, la quale non è solo un'etica nello stare al mondo, non è solo l'adesione a una storia di salvezza, ma è speranza certa della venuta del Signore, colui che è venuto nella debolezza della carne, della carne umana. Gesù viene nella debolezza della carne umana. A Betlemme, una piccola realtà, non nella grandiasità di un palazzo reale. A Betlemme verrà gloriosamente nella pienezza di Dio e Signore per fare cielo e terra nuovi. Vedete, questo accenno forte che Enzo Bianchi ci dona, che sembra una sfumatura, invece è l'essenza stessa della nostra fede. Accogliere colui che abita la debolezza della carne umana ed è il Signore e Dio, Signore e Dio. Tutto questo ci porta a farci tante domande, soprattutto leggendo il brano del Vangelo di oggi, che parla di una apocalisse. Che fare dunque, scrive ancora Enzo Bianchi, in attesa di quel giorno? Vigilare, stare attenti, osservare la realtà nella quale si è immersi. Vigilare, stare attenti, osservare la realtà. Spesso noi eludiamo la realtà, ci facciamo prendere un po' in giro dalle formule magiche, illusorie che i potenti della Terra ordiscono nei confronti dell'equilibrio della vita su questo pianeta per fare profitto. Smettiamo di osservare la realtà per quello che è, ci fidiamo delle stupidaggini che ci vengono propinate tutti i giorni. Abitare dunque la vita concreta del nostro tempo. E vedete, questo richiamo alla concretezza, di fronte all'immagine apocalittica che troviamo nel Vangelo di oggi. È una espressione autentica di come dovrebbe essere la vita del cristiano, ma dovrebbe essere la vita dell'intera umanità. Sempre osservare attenti, radicati nella realtà, perseveranti nella disponibilità al cammino. Il contadino che vive con gli alberi di frutta, che li conosce, li osserva e li cura. Dalfico comprende anche l'andamento delle stagioni. Quando la gemma di questa pianta, appena accennata nell'inverno, si gonfia, cresce e sembra pronta, e sembra pronta ad aprirsi. Allora il contadino capisce che sta arrivando l'estate. Enzo Bianchi ci ricorda un altro passaggio del Vangelo che incontriamo in questi giorni. L'osservazione che ci rende capaci di intuire il divenire delle stagioni. Così, quando noi leggiamo in profondità eventi del nostro tempo e realtà dei nostri luoghi, possiamo discernerli come segni, cioè segnali capaci di indicare qualcosa. Segni dei tempi e dei luoghi che i discepoli di Gesù devono essere esercitati a interpretare per comprendere come e dove va la storia guidata da Dio e come gli uomini si oppongono a questo cammino. Questo è un passaggio profondamente antropologico, spirituale, politico anche, e ci riporta all'ecologia del nostro abitare la terra, il logos dell'abitare la terra, il senso e il significato. E in questa prima domenica di avvento troviamo questo straordinario e bellissimo brano del Vangelo, Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra, angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Un'immagine appunto apocalittica che riguarda la natura, che riguarda i rapporti tra gli esseri umani. E sempre nel commento di Enzo Bianchi troviamo una sintesi a mio parere particolarmente significativa, perché allora anche la luna e il sole erano state interpretate come divinità. Qui troviamo la demitizzazione, detronizzazione come scrive Enzo Bianchi di queste divinità. Tutto viene radicalmente sovvertito e questo è nell'ordine delle cose. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria, potenza e gloria. Non è assolutamente intenzione dell'Evangelista di affermare che solo così, solo attraverso questo passaggio potremmo vedere. No, tutto questo accadrà, ma contemporaneamente si esprimerà la potenza e la gloria del Signore che viene sulla nube e questo ci deve trovare pronti, attenti, non impreparati. Quando cominceranno a cadere queste cose risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Non c'è rassegnazione, nel momento tragico anche. Penso ai cataclismi climatici, penso alle guerre. Ebbene, noi dobbiamo rialzarci, trovare il coraggio di accogliere il veniente perché la liberazione è vicina. State attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazione, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. E qui c'è anche un monitor. Non lasciamoci andare gli stili di vita dissipativi che caratterizzano la dimensione antropologica del nostro tempo. Un tempo dell'ingiustizia, dell'accumulazione dei beni nelle mani di pochissimi e dell'invito che i pochissimi formulano per diventare ancora più ricchi, l'invito a essere dissipatori perché fanno intravedere anche attraverso la potenza dei media che lì vi è la felicità e invece c'è solo l'imbroglio che ampesantisce in termini di disperazione la coscienza collettiva. Si ricorre, è vero, ai trucchi dell'uso delle droghe in primis laico, l'ubriachezza e ci siamo chiamati ad alzarci e elevare il capo, porci nella postura del cammino perché tutto questo non accada senza una preparazione. Tutto accade come un laccio infatti. esso si abbatterà sopra di tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. La catastrofe climatica è sotto i nostri occhi. Le guerre sono sotto i nostri occhi. Spesso ci rassegniamo oppure ci consoliamo dicendo ma sì tanto poi un giorno se siamo credenti troveremo il paradiso da qualche parte. No, l'invito è qui e ora. Questo accadrà, sarà il frutto della mondanità. non è certo il disegno di Dio. Avverrà perché è nell'ordine delle cose e l'intero universo prima o poi finirà, sarà sconvolto ma persevererà. Quella parola che si è fatta carne e che abita in mezzo a noi e che ci invita alla sequela di quel messaggio di salvezza e di liberazione. Vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Pronti a comparire di fronte alla parola che si è fatta carne. È un messaggio di profonda e radicale speranza che viene impresso nella realtà della vita quotidiana, nella concretezza delle nostre esistenze. È una svolta radicale, una conversione, l'inizio dell'Avvento che ci porterà al Natale. Buona giornata a tutte e a tutti.